Missile Command Miracola e stima dei danni Come ogni gioco votato unicamente alla difesa Era assolutamente impossibile vincere Ma da che cosa dovevamo difenderci? Dai russi I russi con quelle loro armi evocative come Il Grizzly Il Gladiatore, Dzeko Gremlin Zarbomba Rebomba Forse Missili cinesi Missili lanciati Da cinesi alti 2 metri Capace di progettare Missili come il Peng Dong 5 Distrusse Un solo colpo La base di Guam nel Pacifico Le terribili immagini di San Luis Obispo Ne abbiamo ancora tutti negli occhi E la stessa sorte potrebbe succedere anche a una delle nostre tranquille città italiane Fate scorta di acqua, di cibo, di medicinali E in generale evitate di frequentare i vostri simili